Fino al 4 febbraio a Castelletto, sopra Ticino, Novara, è visitabile la mostra itinerante I Loghi dei Consigli Comunali dei Ragazzi, nell'ambito delle celebrazioni per il 150 Nario dell'Unità d'Italia, che è presente ai lavori degli alunni di tutto il Piemonte e partecipanti al concorso indetto dal Consiglio regionale. Sarà visitabile fino al 14 febbraio a Rossa, presso la Casa delle Associazioni Via Dante Alighieri la mostra di vignette satiriche La Donna Immaginata, l'immagine della donna inaugurata il 27 gennaio e promossa da Consiglio regionale del Piemonte e della consulta femminile. Si inaugura il 3 febbraio nella Sala Conferenze della Biblioteca di Chieri la mostra Il Fascino Borghese della Fotografia che raccoglie gli scatti più significativi dell'archivio della rivista Il Borghese dal dopoguerra agli anni 70. L'allestimento rimane visitabile fino all'11 marzo.